La tua forza, la mia figlia, tu di sciogisti si è vado, a te si è la mia figlia, i tuoi figli, i tuoi figli di orvelo. Celebrata a Battipaglia questa mattina, come in tutta Italia, la festa dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Il 4 novembre ricorre l'anniversario della firma dell'armistizio, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale. La sindaca cecilia-francese, alla presenza delle autorità militari e religiose, ha deposto corone commemorative in Piazza della Repubblica e in Piazza Mendola. Come ogni anno è importante ricordare questa data, che segna anche la fine della Prima Guerra Mondiale, l'armistizio e la resa dell'esercito astro-ungarico. È importante, sempre più che mai, soprattutto in un momento in cui bisogna far capire alle nuove generazioni, che tante persone hanno pagato con la propria vita la libertà. C'è stata poi una seconda guerra mondiale ed ora speriamo che non ce ne sia una terza. Come ogni anno partiamo qui dal municipio a deporre la corona davanti all'assado del merito ignoto. C'è stata poi un'esercito di un'esercito di un'esercito di un'esercito di un'esercito. C'è stata poi un'esercito di 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 un'esercito di